Temi di grande rilievo per cantanti e professionisti della voce, dall'inquinamento acustico all'igiene vocale, dall'utilizzo corretto della voce cantata e parlata al ruolo della musicoterapia. Se ne è discusso in un convegno organizzato per il trentennale del Coro delle Voci Bianche di Novara all'Auditorium della Banca Popolare. Convegno aperto a grandi e piccini. Bello e significativo la voce trattata dal punto di vista scientifico, dal punto di vista terapeutico. La musica anche come terapia, la musica come aiuto ai bambini, agli anziani, agli ammalati. Questo per noi è veramente molto molto importante perché siamo in grado di poter offrire anche un confronto con la scientificità della voce. La voce nelle sue manifestazioni più particolari, la voce come deve essere trattata per chi canta, per chi non canta, amici e nemici della voce. I piccoli cantanti di oggi non sono immuni da rischi? Nessuno è immune da rischi perché comunque siamo soggetti a inquinamento atmosferico, siamo soggetti a inquinamento acustico, le patologie non suonano il campanello e non chiedono permesso soprattutto. La voce diciamo che poi ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda anche la comunicazione, perché è uno strumento che ti permetta di comunicare a 360 gradi le tue emozioni e anche la tua cultura. La voce è un bene prezioso per tutti, non solo per chi canta. Da questa consapevolezza ribadita nell'ambito del convegno qualche consiglio utile. Evitare di gridare, evitare di parlare in ambienti con un inquinamento acustico eccessivo, e purtroppo oggi ce ne sono tantissimi. Bere molto, se si fa una professione per cui si deve parlare molto, cercare di concedersi delle pause di una ventina di minuti durante la giornata e poi comunque stare attenti ad ogni piccolo segnale di raucedine, di cali di voce, di abbassamenti improvvisi. Se i sintomi perdurano nel tempo, non sottovalutare questa cosa e chiedere un consiglio al medico. Il convegno, organizzato dalle Voci Bianche, è soltanto uno dei numerosi eventi che celebrano i 30 anni del coro. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio di Comune e Provincia di Novara e con il sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.